La Vastese si ferma ad una traversa dalla vittoria. Contro il Rieti e il Lob di Martiniello ad interrompere gli sbadigli in 95 minuti noiosi con pochissime emozioni con due squadre. Tatticamente ben messi in campo che col pareggio proseguono la scia dei risultati positivi. Quelli della Vastese salgono ad otto, compresi i recuperi, ma l'operazione sorpasso a Eretini è mancata. Perché nel primo tempo il 4-3-1-2 con Martinez dietro Mamona e Franzese non dà i frutti sferati. La squadra di Campolo si chiude bene e la sola girata del numero 11 è troppo poco per sperare di poter sbloccare il match. Qualche calcio piazzato battuto male e la prima frazione va in archivio senza che nessuno la possa rimpiangere. D'Addereo nella ripresa toglie franzese per Martiniello, di Arra di testa al sessantesimo batte centralmente, col tecnico di casa che richiama anche Martinez per fermo e Obodo per Meola. E con un cliché che non cambia, almeno fino agli ultimi 10 minuti. Perché al minuto 81 Martigniello si presenta davanti a Saglietti e invece che di potenza prova il pallonetto, che sembra vincente, ma si stampa sulla traversa e torna in campo. Sempre il numero 20, all'ottantacinquesimo strozza troppo il diagonale Mancino servito da Meola sfera a lato. E dopo aver mancato due opportunità, Ereti si affaccia con i noventati Tirelli e Tuncara, che costruiscono il servizio per la stoccata fuori di poco di Marchi. Ultima emozione, ancora con la girata ad altissimo coefficiente di Martigniello, che Saglietti guarda uscire a lato, finisce 0-0 e per la vastesi è un altro passo in attesa dello scontro di mercoledì al Fadini di Giulianova. Per il Rieti, 0 gol fatti e 0 subiti negli ultimi 180 minuti. E tra quattro giorni al Gudini arriva il notaresco. Mister Stefano Campolo, se i 90 minuti fossero stati come gli ultimi 10, probabilmente avremmo assistito a una partita divertente, ci siamo divertiti solo nel finale. È stata una partita tattica, parliamoci chiaro, un allenatore avversario molto preparato, a cui faccio i complimenti, parla la storia sua, parla. Abbiamo affrontato un'ottima vastese che viene da un ciclo di partite importanti. Noi siamo nella fase un po' di difficoltà, vuoi le assenze, vuoi tante situazioni, però un gruppo di ragazzi, come ripeto, dal primo giorno fantastico, che ha voglia di lottare, di combattere su ogni palla e anche oggi abbiamo dimostrato, perché immagino e credo uscire indenne da questo campo ad oggi è veramente complicato. Pareggio più che giusto, credo, quindi andiamo avanti e si lavora. Nessun gol fatto, però c'è da dire che negli ultimi 180 minuti neanche nessun gol preso. Bisogna lavorare, questo qui è la psicosi che era uscita all'andata anche a noi, sempre con i gol fatti, i gol subiti. Io credo che da allenatore devo analizzare sempre l'equilibrio che la squadra mette in campo. Ti ripeto, con tante difficoltà non abbiamo perso un attaccante importante come Giordano Fioretti, attualmente uno dei più forti di categoria. Per cui stiamo lavorando con tanti ragazzi, faccio i complimenti a Lai e Signati, che ha fatto una grandissima gara, faccio i complimenti a Vincenzo Tommasone, giocatore importante, che se capisce alcune cose del mio modo di fare calcio diventa devastante. Per cui è importante il lavoro quotidiano, giorno dopo giorno andiamo avanti e sono convinto che ci divertiremo tanto. Che gli ultimi dieci minuti ne abbiamo cercato di vincere la partita. La prima parte è stata abbastanza guardinga da entrambo le parti, anche perché abbiamo trovato un rieti coriaceo, molto organizzato e soprattutto agguerrito. Precedentemente erano andate a giocare partite diverse e hanno preso otto gol in due partite. Invece già contro il Matese hanno riequilibrato correndo tutti e tornando tutti. E' un'arma che loro hanno e l'hanno sfruttata bene oggi. E' sembrata mancare un po' di profondità la vastese. Vi hanno tolto un po' di profondità, probabilmente quella che voi cercavate. Sì, il campo non ci hanno neanche agevolato a giocare palla, perché comunque agevolato loro perché appena noi stoppavamo la palla per metterla a terra, loro erano lì a presarci. E quindi però devo dire che con un pizzico di fortuna in più e se non avessimo trovato l'unico punto asciutto dello stadio, la palla sarebbe ribazzata diversamente. E invece no.